Con Roberto Pirrera per raccontare una settimana da vivere alla grande. Mi viene da dire questo dopo aver visitato le meraviglie di questa nave Royal Caribbean che ospiterà nel giugno 2013 la prima crociera interamente nera azzurra. Assolutamente sì, ci sarà da divertirsi tantissimo e soprattutto una settimana quando si scenderà non sarà ritenuta sufficiente per aver visto tutto. Sicuramente ci saranno tantissime cose da fare a partire dal free climbing, impattinare sul ghiaccio, tutte le opzioni culinarie che offre questa nave dal ristorante su tre livelli fino al più informale windjammer ristoranti speciali come il Giovanni Stable piuttosto che il Chops Grill praticamente si offre qualsiasi cosa per qualsiasi tipologia di gusto. Ci sarà la possibilità per quanto riguarda i tifosi nera azzurri che saranno a bordo di vivere tanta Inter. Nel corso dell'anno poi si verificheranno quelle che sono le possibilità però insomma tra giocatori e ex giocatori un vero mondo nera azzurro che si apre allo sguardo di chi vuole partecipare a questa crociera dei prezzi comunque io dico competitivi. Assolutamente sì, io penso che dopo questa due giorni passata a bordo con parecchie persone interiste ci si sia reso conto di quello che si potrà fare a bordo e se si pensa al prezzo di entrata che comunque per una cabina interna, per una camera interna è di 100 euro al giorno per persona presumo proprio, anzi sono certo che quando si scende si dice avrei potuto spendere addirittura di più e quindi sicuramente sono strassicuro che quando uno scenderà, chiunque scenderà da questa nave avrà vissuto la crociera e la vacanza più bella della propria vita. Ricordiamo prezioni inclusive, ci sono dei vantaggi per le famiglie con i bambini? Assolutamente sì, i bambini fino a 12 anni sono completamente incluse ne approfitto per ricordare che per le fasce di età di 2 anni in 2 anni quindi a partire dai 2 fino ai 18 anni c'è un mini club o anche un team club per i ragazzi più grandi che si occupa completamente di loro addirittura c'è una discoteca per i ragazzi più maturi. Per i ragazzi maturi, per gli adulti, tante zone per ballare, per trascorrere tempo insieme per vedere l'alba, il tramonto, per insomma godere anche di quello che poi dai porti si andrà a visitare. Assolutamente sì, direi proprio massima libertà per i tifosi nero-azzurri ci sarà l'opportunità di stare insieme ai propri campioni, giocare con loro partecipare a tutte le gare che saranno organizzate ovviamente andare a incontrarli e fare anche... Sarà Inter Channel anche di questo. Ovviamente Inter Channel penso che sarà il veicolo più bello che darà anche l'opportunità a chi non ha partecipato ovviamente a far venire voglia di partecipare l'anno successivo perché l'obiettivo di tutti ovvio stiamo già pensando non solo alla crociera del prossimo anno ma anche di quella del 2014 in modo tale da creare proprio un grande binomio tra l'azienda che rappresenta ovvero Royal Caribbean e Inter che hanno sicuramente tanti punti in comune. Soprattutto rappresentano l'eccellenza nella categoria. Dicevo appunto questo, sicuramente sono due aziende, chiamo l'Inter un'azienda come la mia sicuramente ai top non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Perché c'è un crociere e poi c'è la Royal Caribbean. Assolutamente, noi siamo il secondo gruppo crociaristico del mondo e abbiamo una quota di mercato molto importante e comunque a livello globale siamo praticamente un marchio iper riconosciuto soprattutto per l'innovazione delle nostre navi e la qualità del nostro servizio che è sicuramente da 5 stelle. Giugno 2013 tutti on board. Tutti on board e sicuramente vorrei proprio essere contento di vedere tante persone che non sono riuscite a prenotare. Quindi invito tutti ad affrettarsi. Ricordo che soprattutto per i soci nero-azzurri ci sono tanti vantaggi per chi prenota nei primi mille. Soci di Inter Club. Ovviamente, soci di Inter Club. Grazie mille, ciao Roberto. Grazie a voi, ciao e forza Inter.